Perché questo è un posto dove solo alcuni possono entrare. Allora, ci sono pronti partì. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, preferisco te. Sono tutte sovraesposte. Senza l'ultimo. Tommaso, dobbiamo andare a est! A ovest dobbiamo andare! A ovest! Cerca di usare la logica, cazzo! Non ho bisogno di usare la logica! Non so... Dov'è la montagna? E voi? Cosa cercate? Grazie a tutti.